ciao amici come state tutto bene facciamo il posto del martedì l'ultimo martedì prima delle feste natalizie in cui ci siamo ritrovati ci siamo scambiati gli auguri di natale insomma di un sereno natale abbiamo anche avuto modo di pensare un pochettino a che cos'è il natale questo natale così veloce così consumistico che non ci permette magari di dedicarci un po più di tempo alle persone che ne hanno bisogno tant'è che meganaturista insomma aveva sollevato anche la questione dicendo bene voi invitereste una persona sconosciuta in difficoltà a casa vostra nel periodo di natale qualcuno ha risposto magari non proprio sconosciuta ma magari anche dei parenti che sono da soli che quindi hanno bisogno di stare in compagnia di qualcuno qualcun altro insomma anni c'è chi dice ci ho pensato ma poi veramente tutta questa velocità questa frenesia non mi permette mai di diciamo così di realizzare ecco quello che è quello che vorrei però sicuramente tutti concordi nel dire che negli anni il natale è cambiato è veramente diventato troppo consumismo troppo fretta e ci si dedica poco agli altri però detto questo insomma come sempre un menù incredibile è quello di meganaturista che ogni martedì ci regala le sue prelibatezze tant'è che qualcuno gli ha detto scusa ma possiamo venire anche noi a pranzare a casa tua io glielo dico sempre e lui ha detto potremmo anche organizzare un pranzo con simone gli avvc trs perché no lo diciamo da un po di tempo poi insomma anche qui non riusciamo mai a organizzarci però perché no che nel 2024 effettivamente ci sia la possibilità di trovarci con qualcuno di voi e comunque come sempre se volete veniremi a trovare siete ben accetti anzi quindi insomma ci siamo raccontate anche queste cose è la cosa bella che come sempre voi mi fate scoprire anche delle canzoni che non conoscevo ad esempio the strokes reptilia e rel e anche spaceman come traveling di chris de bar che devo dire sono state due canzoni che non conoscevo mi sono piaciute molto diverse tra di loro una più natalizia e di lì insomma uscito anche il dibattito di qual era la canzone natalizia per eccellenza per voi c'è chi ha detto i queen chi appunto le due canzoni che abbiamo sentito chi è più tradizionalista quindi a natale con i tuoi ad est e fidelis insomma queste canzoni tra l'altro appunto vi chiedo qual è la vostra canzone natalizia io se ci devo pensare belli one last christmas che l'abbiamo anche sentita martedì e io l'adoro e secondo me per me è la classica natalizia proprio da festa mi ricorda la montagna mi ricorda la voglia di stare insieme di festeggiare e quindi sì direi che per me è quella per il resto insomma vi ho detto che ci saremmo trovati dopo le feste con la diretta ma nel frattempo cercherò di tenervi compagnia di realizzare magari qualche video anche durante le feste natalizie e dopo per continuare a tenerci in contatto ma come sempre potete sapete che potete tenervi in contatto con me tramite l'email immacalibuno chiocciallibero.it sul canale patria simona un solo radio o qui su youtube anche con l'abbonamento vi auguro veramente buone feste vi mando un bacio grosso alla prossima e grazie per essere stati con me anche in questo 2023 ciao